La lingua batte dove il dente duole, problema immigrazione vissuto quotidianamente da chi produce reddito in questo territorio, chi la mattina alza la sara cinesca del suo negozio per portare avanti l'economia. Oggi piuttosto fragile e si deve scontrare non solo con una burocrazia farraginosa, ma anche deve convivere in questi giorni con il coronavirus e con l'immigrazione, che fatica a mettere insieme il pranzo con la cena e che non fa dormire sonni tranquilli. Di queste preoccupazioni ce ne parla in questa intervista rilasciata al nostro Piero Giunta il presidente provinciale della Conf Commercio di Ragusa, Gianluca Manenti. Ascoltiamo. Gianluca, da presidente provinciale della Conf Commercio di Ragusa, ma anche e soprattutto da Pozzallese, che idea ti sei fatta per quanto riguarda l'immigrazione che coinvolge questo territorio? Il territorio siciliano non può essere condannato come logistica del mercato illegale dell'immigrazione, così come fino ad ora ha fatto il governo centrale, soprattutto in questi mesi e anche prima della pandemia, che ha assunto delle decisioni piene di contraddizioni e soprattutto sull'immigrazione. L'agenda europea, per quanto riguarda l'immigrazione, si è rivelata inadeguata e soprattutto compromessa, specialmente in questo momento del Covid, mentre la politica nazionale non riesce ad affrontare in modo serio un problema che diviene ogni giorno sempre più pericoloso per il popolo siciliano e soprattutto per la messa in sicurezza della salute pubblica, scaricando sulla Sicilia gli esiti di un vero dramma. Però Gianluca conviene con me che chi governa e chi fa politica in questo territorio sono i sindaci che sono a contatto con i cittadini e di loro problemi quotidiani. Io li chiamo sindaci di frontiera, troppe volte lasciati fuori dalla politica regionale e nazionale. Anche su questo una tua riflessione. I sindaci, sebbene sono animati di un alto senso di umanità, anche loro sono risultati compromessi in questa pericolosa gestione e fino ad oggi, da quando il fenomeno si è attuato, non hanno trovato alcuna soluzione, alcun riscontro a questa grave situazione. E i tentativi messi in atto sono stati vani, gli appelli gridati e sensibilizzati attraverso anche la stampa, i media, sulla vicenda dell'immigrazione per poter proteggere una cittadinanza seppur si dimostra accogliente. Ma è preoccupata da questo tragico momento. Ringrazio Gianluca Manenti, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.